Vuoi un prestito ma non hai i soldi? Sprofoliz! Mandaci la tua ultima busta paga. Con dentro anche i soldi, potrai chiedere fino a 50.000 euro in contanti. E se hai problemi col pagamento, puoi estinguerti quando vuoi. Sprofoliz, servizio con sede illegale alle isole equilibati. Mangia anche tu i cereali e ha il gusto di cereale. Dentro troverai il cd del tuo personal trainer con le indicazioni per rimanere sempre in forma. Ciao sono il tuo personal trainer. Dimagrisci. Sto aspettando che dimagrisci. E per i più fortunati, in omaggio, il tuo consulente personale che ti dà consigli su cosa mangiare ogni giorno. Una mela, due mele, tre mele, una mela. Se vuoi muoverti o se vorresti muoverti, se vuoi fermarti, se vuoi camminare, tanto. Sahara fra i GPL a partire da 5.850 euro, anche in versione banana. Venite a provarla all'acquaplaning di Riccione. Vola con EasyJets, pacchetti vacanza a prezzi scontatissimi. Volo Milano Malpensa, 12 euro. Roma Fiumicino, 49 euro. EasyJets, la compagnia di aeroplani più o meno costosa. Questo programma è presentato da LA PORTA E da CHIUDI Sbrevi e cremi con vrollo. TACQUINO T A Q Q Q U I R O O Esatto. Ora scrivi e controlla O R R Z O Non ricevo. Riprova e controlla. Orbo O R B O Non ho ricevuto. Avevo chiesto Corvo C O R R V O Nave Ora scrivi e controlla Paralipomeni della matria comiomachia. A P E Non ricevo. Riprova e controlla. Paralipomeni della matria comiomachia. Iota 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 R Percentuale colesterolo K Hai vinto. Premi Indovinati. C Hu ave R R R